Io sono Cristian Koren, sono sloveno. Prima volta quando sono partito non sono arrivato con primi, sono arrivato due minuti dietro. Dopo due anni sono arrivato in podio. 2013 sono già visto che siamo un gruppo per Peter Sagan e portare avanti. Già tre volte sono fatto il tour, tutti i ragazzi che arrivano che sono fatti tipo vuelta, giro, dicevano quando arrivano di là in partenza, wow, tour, altro mondo come altre gare.